le balbuzie creano insicurezza oggi mi trovo qua perché spinto da un caro amico di nome ryan che saluto ciao ryan voglio parlarvi di balbuzie un problema che riguarda il linguaggio ed è un problema che effettivamente molte persone nel nostro paese ma anche al di fuori di questo hanno e si concretizza in una marcata difficoltà nel linguaggio comunicativo in buona sostanza il balbuzziente non ha un modo di comunicare fluente ma si incespica e soprattutto ha difficoltà a parlare in maniera serena e discorsiva le balbuzie effettivamente sono un problema in tutto e per tutto che può essere guarito può sparire può estinguersi che però al tempo stesso considero un problema che crea in concreto e non in astratto una grande insicurezza in quella persona che purtroppo ne è affetta l'insicurezza deriva in primis da una società che è sempre pronta a puntare il dito contro chi ha un eventuale problema basti pensare a chi ha un difetto nel bullismo quel difetto viene ingigantito viene amplificato viene portato a livelli infiniti non ci si rende conto che se per un essere umano quel difetto visto esternamente può essere un difetto diciamo così di poco conto per chi lo vive può rappresentare una problematica in piena regola e può rappresentare addirittura nei casi in cui quello stesso difetto è presente in una persona particolarmente sensibile motivo di suicidio voi non potete immaginare quante persone si vanno a uccidere perché purtroppo hanno un difetto perché magari hanno una problematica estetica oppure comportamentale o come nella fattispecie concreta riportata nel titolo di questo video un difetto nel linguaggio nella comunicazione e bisogna crocifiggere queste persone secondo voi e bisogna direggiarle e bisogna mettersi nella condizione di bullizzarle punto interrogativo io penso proprio di no io penso che se c'è qualcosa che bisogna fare è quello di aiutare queste persone di non farle sentire un peso di non far sentire loro che hanno una problematica noi possiamo migliorare noi possiamo migliorare questo pianeta volendo noi possiamo guarire da eventuali problemi che possiamo avere e solo una problematica non possiamo trovare soluzione ed è la morte alla morte nessuno di noi potrà mai trovare una soluzione e tutti dovremo morire e dopo questa perla stupida di saggezza una perla stupidissima di saggezza vengo a dire che purtroppo in concreto e non in astratto la balbuzia le balbuzie rappresentano un crollo delle sicurezze il balbuziente si sente profondamente insicuro e al tempo stesso questa insicurezza accrescerà sempre di più in lui nel caso in cui riscontrasse davanti a sé un bullo o dei bulli che lo andranno a direggioare che lo andranno a maltrattare che si metteranno nella condizione di insultarlo di aggredirlo di farlo sentire una cacca e soprattutto di dargli un valore equiparabile allo zero assoluto ecco se c'è qualcosa che noi possiamo fare ripeto è quello di aiutare chi ha un problema non facciamo stare male che ha un problema cerchiamo di venire incontro cerchiamo di proteggerlo cerchiamo di stimarlo cerchiamo di metterci nella condizione di supportarlo in tutto e per tutto quindi largo o meglio basta a chi direggia gli altri basta chi li prende in giro siamo tutti uguali buon dio buon cielo se avete una persona balbuziente vicino o davanti la cosa più importante è che voi non vi mettete nella condizione di schernirla di farla sentire diversa da voi fatela sentire uguale a voi non fatelo sentire diverso da voi stessi il diverso come dico sempre nei miei video è negli occhi di chi guarda il diverso è negli occhi di chi guarda questo che significa che un diverso appara a me come diverso ma quella persona in concreto è uguale a me due occhi due braccia due gambe due due narici un naso una bocca punto può avere o non avere i capelli spesso e volentieri avere i capelli è qualcosa di piacevole perché effettivamente è piacevole ma anche chi è pelato non ha nulla di diverso da te è una persona a tutti gli effetti quindi non scherniamo gli altri cerchiamo di venire appresso a chi purtroppo ha una eventuale problematica e mettiamoci nella condizione di far fruttare il nostro cervello cioè metterlo in riflessione perché è bello gioire è bello divertirsi è bello fare quattro chiacchiere ma il balbusiente o consiente devono poter avere una loro dignità che deve essere sancita garantita e soprattutto rispettata detto ciò vi ringrazio per la visione di questo video per l'ascolto da Leandro Smelli di Roma è tutto un salutone caro e al prossimo video